L'appello che faccio io è quello di fare massima attenzione. So che i sindaci delle città Coppoluogo mi hanno avvisato loro stamattina, mi ha avvisato il Presidente Conte che è il Presidente dell'Anci e volevano fare una riflessione al loro interno. Noi non escludiamo di farne una anche nelle prossime ore, ovviamente rispettosi del fatto che siamo davanti a un contesto sociale e economico che non ha bisogno ancora di immazzate con ordinanze. All'indomani del primo weekend in fascia gialla con annessi assembramenti e sprizze di massa, la linea è chiara, si valuta un'ordinanza con i sindaci che potrebbe entrare in vigore entro il prossimo fine settimana. Di certo per regolamentare alcuni orari e altro decisamente sì, ma non sto parlando di confini comunali, questo è poco ma sicuro. L'obiettivo quindi è quello di scoraggiare i soliti assembramenti di fronte a un copione già visto in occasione di ogni riapertura, un continuo déjà vu che porta Zai a formulare una provocazione. Se avessimo posti all'infinito negli ospedali, ma lo dico per assurdo e non sarebbe comunque sostenibile come ragionamento, potremmo anche dire che ognuno poi sceglie il suo destino. Peccato riprende sempre il governatore che il destino di ciascuno sia intrecciato quello degli altri per non parlare della necessità di tenere gli ospedali sotto controllo in un momento cruciale per i vaccini tra i mille dubbi attorno ad AstraZeneca, i ritardi delle consegne e le mutazioni del virus. E qui sta l'altra notizia di giornata con la regione sempre più intenzionata a procurarsi il vaccino per conto proprio. È vero che la regione ha avuto dei contatti. Noi li vogliamo avere nell'ambito della legalità totale, rispettosi di tutte le leggi nazionali e europee e non la viviamo neanche come una contrapposizione al governo. Dobbiamo prendere atto che prima viene la salute dei Veneti.